Sono sbalordito e sono soprattutto innocente. Farò appello. Gli atti di questo processo dimostrano in modo inequivocabile che ho ricevuto sul piano editoriale un giornale sul ruolo del Baratro. I miei risultati sono sempre stati positivi, sempre in netta controtendenza rispetto al mercato e soprattutto tutti conseguiti in modo lecito. Lei non se l'aspettava? No, sono amareggiatissimo e ribadisco appello.